Ciao! Oggi volevo iniziare una serie di video sempre dedicati ad une, però dedicata magari a tutti gli approfondimenti, personaggi, eccetera. Non le farò magari tutti i video di seguito se diventano una noia mortale. Magari le faccio un video sì e un altro video parlo di un'altra cosa, eccetera, in modo che comunque non vi stanchi. Se per chi magari segue i video in seguito dall'altro, però comunque magari il prossimo video sarà trattato di un'altra cosa totalmente diverso e magari andrò avanti sempre con questo. Oggi volevo iniziare col parlarvi di una cosa indone molto interessante che comunque c'è da quando è stato comunque aperto, come dire, è stata scritta là il romanzo, insomma. Che è la figura di Paul Atreides come il Quisa Siderac. Allora, Paul Atreides... Allora, leggo qua, se no, ragazzi, non mi ricordo nulla. Cioè, me lo ricordo, ma se no riesco di dirvi gastronerie. Allora, Paul Atreides ha origine ovviamente dal casato degli Atreides. E' stato fin da piccolo, comunque sappiamo tutti, addistrato ai combattimenti, mica combattimenti. Ha avuto, come ha detto lui, dei bravi maestri. Dopo che comunque la sua famiglia, la sua famiglia è stata tradita, si può dire tradita e massacrata. E suo padre più che altro è stato ucciso. Paul Atreides, lui si esilia su Arrakis, fugge da Arrakis con sua madre, Jessica. Così riesce a essere, capisce comunque la cultura dei Fremen. Non si mischia, diciamo, riesce a... Vuole impare la loro cultura, i loro usi, i loro costumi, impara ad essere, diciamo, uno di loro. E nel frattempo impara ad essere un leader. Un leader perché comunque loro gli insegnano, chiaramente gli insegnano i loro costumi, i usi, la cultura, eccetera. Ma gli insegnano anche il loro modo di difesa. Il fatto di cavalcare il verme, delle sabbie, una sorta di... Lo allevano come se fosse uno di loro. E quindi si guadagna la loro fiducia. Poi, inizialmente, dopodiché, intanto comincia a prendere vita la profezia del Quisa Sidrack. Allora, il Quisa Sidrack è una profezia aperta, messa in atto, messa in atto, diciamo... Non messa in atto, come dire... Nominata dalle Benagesserit, naturalmente. Allora, le Benagesserit sono l'artefice del 90% della vicenda. Perché da loro dipendono le manipolazioni genetiche, dipendono le profezie, dipendono tante cose. Questo a me piace tantissimo, perché oltre a... Oltre ad essere una cosa interessante, diciamo, come teorie, come... Come teorie, come anche un sviluppo della storia, è il ruolo della donna che comunque ha nel romanzo. Diciamo che mostra come la donna, come Frank Herbert la pensava sulla donna. Poi, chiaramente, tutto è lì, cioè, tutto può essere possibile. Perché comunque, non... Cioè, conoscendo chiaramente le persone, uno sta a quello che fa. Chiaramente poi, quando va a... Anche, per dirvi, adesso faccio un altro esempio. Anche Joss Whedon ha inventato baffi, ma sappiamo, dopo quello che è successo... Adesso non voglio stare qui a vedere, perché non è il video giusto. Però Joss Whedon sappiamo che non ha... È stato anche... Non dico... Non so se ha denunciato cosa, ma è stato anche... Faceva bullismo, cioè... Era l'indefinito un po'... Ecco, da parte sessista, faceva battute un po' sessiste, maschiliste, eccetera, ecco. Eppure, io non me l'aspettavo da uno del genere, che comunque avesse creato Buffy. Che, diciamo, è la... come dire... Il simbolo dell'eroina femminile, dell'eroe femminile. E qui, bene o male, anche Frank Herbert. Frank Herbert... Frank Herbert... Mette la donna come centro della storia, si può dire, e la fa un artefice della storia. È come se la donna, diciamo, non fosse proprio Paul Atreides che è il protagonista, ma bensì è le Benagesserit che manipolano. Manipolano la storia e manipolano il destino. Loro tentano di modificare il destino, modificare il fatto, per far sì che nasca questo Messia, questo Quisa Saidera. Che loro fanno tutto in modo che possa venire una femmina. Perché loro sanno manipolare geneticamente. E il fatto di Jessica, Jessica tradì la sorellanza e diede al duca un erede maschio. E proprio che fu Paul Atreides che immancabilmente si pensa, e adesso, beh, noi lo sappiamo, si pensa sia il Quisa Saidera. E quindi su di lui pesa questa profezia. Perché lui non vorrebbe esserlo, perché sa bene che questo Messia, questo Dio, insomma, da porterà morte e distruzione. E ci saranno a lui e dalle sue visioni. Lui ha queste visioni dove vede milioni di morti. E lui quindi gli pesa questa cosa. Poi non può stare con Ciani, perché lui ama tantissimo. E allora questa cosa lui ignora e evita a tutti i costi questa cosa. E quindi si forma una certa, non crisi, sì, una specie di crisi d'identità. Lui non vuole essere una cosa, ma deve per forza esserlo. Ecco. Dopo, con questo, con questa, questa avvenuta, le Benagesserit hanno, come dire, hanno anche predetto della guerra santa. La guerra santa è la guerra che comprende tutto l'impero galattico, oltre al mondo di Dune, di Arrakis, chiaramente. E quindi si avrà una, una guerra totale. Il potere e il destino, esatto. Lui deve accettare anche questa, questa sorta di potere. Perché lui ha, lui comunque, allora, lui deve accettare questo potere come, come fardello. Anche lui lo dice nel film, anche Temo di Scianamelo, che dice è il mio fardello e devo portarlo avanti. Adesso magari l'ha detto quando doveva, stava combattendo con suo federauta, il nipote del barone. Quindi, bene o male, deve accettare questo peso che ha sulle spalle, questo costo, tra virgolette, del potere. Lui, comunque, essendo anche in attenzioni nobili, comunque è sempre in mezzo agli intrighi politici, perché comunque lui, essendo la figura centrale, del, come si chiama, della figura centrale della storia e anche del, di tutta la vicenda, chiaramente è sempre in mezzo in mezzo, anche se lui non vorrebbe esserci. Cioè, deve accettare le condizioni che gli propone, gli propone, sì, gli mette addosso questa profezia. Il costo della visione, ok, si sono, deve accettare questo suo potere, come quando un sensitivo, una persona, non accetta un potere che ha di suo, ma perché sa che le porterà alla distruzione. Allora, il Quisa Siderach, nell'immagine del Quisa Siderach, nel modo più semplice possibile, è stato chiamato Quisa Siderach dalle Bene Gesserit, come vi dicevo prima, no? E si chiama, io non ho capito il motivo, sperando che dopo lo dicano, perché non ho capito, e tradotto letteralmente, si chiama Salto a breve distanza. Non ho capito il motivo del perché. gli ha dato allora questo nome, forse molto ovviamente per il suono del nome, comunque, capiremo più avanti, sono sincera, molto probabilmente non hanno ancora detto nulla, è una traduzione fatta così. Ha dei poteri molto elevati, come vita la psichica, mentale, intelligenza elevata, e capacità di visione, insomma, come Paul, insomma. Il ruolo di cambiare la storia, di portare cambiamenti e sviluppi mastodontici, cioè cambiamenti epocali, no? Epocali, portare, può essere molti, allora, molte persone dicono cambiamenti in positivo, però si sa che se comunque Paul ha avuto delle visioni negative, morte, guerre, morte, eccetera, chiaramente sarà una cosa bellissima. Quindi possono essere tutte e due come visioni, no? E dopodiché la manipolazione genetica. La manipolazione genetica, ritorniamo, sempre lì, è il frutto, come vi dicevo, di anni e anni e secoli, di lavoro, tra virgolette, delle benagesserit. delle benagesserit. E lui, come persona, è il frutto della manipolazione delle benagesserit. Per quello vi dicevo, vi dicevo che la donna, e mi fa piacere questo, fa piacere questo, come, come cosa, di Frank Herbert. io non ho mai letto i libri di Frank Herbert, comunque, Herbert, usate la pronuncia, di Frank Herbert, quindi, diciamo, sapere questo, sperando che sia verità, non sia una questione solo di Danie, come ha fatto giustamente, Joe Sweden, perché a questo punto posso sapere, posso capire, che baffi è stata solo una questione di questi. Quindi, diciamo, è frutto della manipolazione genetica delle benagesserit. Ora, io, fermo qui, in modo che vi ho detto le cose principali, io faccio magari video corti, in modo da dirvi le cose principali di ogni tipo di cosa, di ogni tipo di oggetto, magari vi parlerò della spezia, delle benagesserit, ok, così magari è un po' più corto e sperando di non annoiare. Io, comunque, vi saluto, mi fa piacere, se vi iscrivete qualcosa qua sotto, come volete, fatemi un misil, e ciao!